Roma Info Mobilità, informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma. Un servizio realizzato da Roma Servizi per la Mobilità e Luce Verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato Italiane. Le anticipazioni per il fine settimana, domani due cortè in centro e uno a boccea. In particolare domani da mezzogiorno alle 17 in zona San Pietro è prevista una manifestazione da Largo Giovanni XXIII a Piazza Pio XII. Dalle 15 alle 19, poi sempre di domani, corteo da Piazza della Repubblica a Piazza Madonna di Loreto. Dalle 17 infine corteo dalla circonvalazione Cornelia sino a Piazza Ernerio. I dettagli sulle manifestazioni di domani con le relative deviazioni previste per le linee di bus sono sul sito muoversiaroma.it. Questo per domani. Domenica invece, domenica mattina, l'appuntamento sarà con la Gran Fondo Campagnolo, gara ciclistica con partenza ai fori imperiali e che arriverà sino ai castelli romani. All'evento parteciperanno circa 6.000 ciclisti. Le prime chiusure al traffico scatteranno intorno alle 6.30, saranno deviate o limitate oltre 40 linee del trasporto pubblico, mentre i collegamenti 720 e 765 durante la manifestazione saranno sospesi. Le chiusure al traffico domenica, domenica mattina interesseranno le aree dei fori imperiali, Caracalla, Appia e Ardeatina. Limitazioni anche sul raccordo all'altezza degli svincoli dell'Appia e dell'Ardeatina.